Ciao a tutti e bentrovati nella cucina di ricette che passione oggi prepariamo insieme una succosa ricetta i petti di pollo nella frigitrice d'aria per la realizzazione di questa ricetta ho usato la mia nuova frigitrice d'aria iGostar molto facile da usare con 8 programmi preimpostati oppure regolabile con una temperatura massima di 200 gradi possiamo selezionare uno dei programmi preimpostati ma possiamo anche regolare tempo e temperatura per due persone ci serve un mezzo petto di pollo che andiamo a dividere in due fette quindi belle spesse che andiamo a battere con un batticarne ungiamo i nostri petti di pollo con dell'olio d'oliva e massaggiamo su tutta la superficie condiamo il nostro pollo con delle spezie ed erbette io ho usato del curry, tandori, massala, dello zenzero, origano e sale ma voi potete usare anche le vostre spezie preferite massaggiamo il nostro pollo da un lato e dall'altro mettiamo il nostro pollo così aromatizzato nel cestino della frigitrice ad aria ne prepariamo due fette alla volta in modo da lasciare abbastanza spazio all'interno del cestino in modo che l'aria possa circolare e cuocere così il nostro pollo in modo uniforme in poco tempo una volta chiuso il cestello accendiamo la frigitrice e il tasto per scegliere uno dei programmi preimpostati da qui invece attiviamo il pulsante della temperatura con il simbolo più e meno regoliamo la temperatura d'altro invece è il simbolo che attiva il timer con il simbolo più e meno regoliamo i minuti di cottura io ho impostato 160 gradi per 6 minuti quando sono pronta avvio la frigitrice ad aria con il pulsante starter attendiamo 6 minuti nella descrizione trovate il link per poter acquistare anche voi la frigitrice ad aria iGostar per avere diritto allo sconto usate il codice che trovate in descrizione estraiamo il cestello e controlliamo la cottura dei nostri petti di pollo li giriamo e mettiamo a cuocere ancora come prima per 6 minuti a 160 gradi potete regolare la temperatura e i tempi in modo diverso a seconda dello spessore dei vostri petti di pollo così da farli cuocere bene a vostro gusto ed ecco che dopo 6 minuti i nostri petti di pollo nella frigitrice ad aria sono pronti succosi e leggeri con pochissimo olio preleviamo il nostro pollo sempre con delle pinze in modo da non toccare il cestello che risulta caldo per oggi è tutto a presto per nuove ricette con la mia nuova frigitrice ad aria iGostar a presto da Ornella ricette che passione